primo giorno di allenamento per fikaio tomori finalmente il difensore inglese è tornato stamattina il comunicato ufficiale del milan che annunciava la negatività al tampone di fikaio tomori ma mi sono informato sul suo allenamento come sta atleticamente sta bene sta bene ha svolto un buon allenamento delle buone esercitazioni potrebbe anche giocare in coppa italia quindi vediamo se mister pioli dopo praticamente due giorni dalla notizia della negatività giovedì lo schiererà in campo contro il genoa per fargli riprendere il ritmo partita tomori era stato annunciato positivo al covid anche se il suo nome non era stato svelato dal comunicato del milan del 5 di gennaio però oggi che 11 di gennaio quindi praticamente dopo sei giorni il milan ha comunicato la negatività del giocatore quindi praticamente la positività del giocatore è durata solamente sei giorni e speriamo che anche gli altri giocatori positivi possano tornare prima possibile in campo per allenarsi con il resto della squadra perché la difesa nonostante il ritorno di tomori insomma presenta ancora alcune difficoltà non c'è chi era non c'è romagnoli non c'è calabria insomma quindi anche nelle prossime partite le mosse che può effettuare pioli in difesa sono abbastanza limitate quindi primo allenamento per tomori un buon allenamento per l'inglese questa è la bella notizia del pomeriggio mi sono informato dopo allenamento che è stato effettuato questa mattina è un allenamento che invece non ha visto prendere parte Zlatan Ibrahimovic che si è allenato in palestra però bisogna dire che questo è un allenamento già programmato in palestra per Ibra perché lui esce dalla palestra solamente 24 48 ore prima della partita è tutto già calcolato per quanto riguarda gli allenamenti di Ibrahimovic e tra l'altro lui non giocherà nemmeno in Coppa Italia perché è squalificato quindi con grande serenità si è allenato in palestra per quanto riguarda invece Florenzi abbiamo saputo che ha fatto una prima parte di allenamento col gruppo poi un personalizzato sul campo ma nessun tipo di problema per Alessandro Florenzi era anche per lui tutto già programmato la tipologia di allenamento in in queste ore Pellegri si allena ancora a parte a breve insomma presto tornerà ad allenarsi con il gruppo nella partita di giovedì molto probabilmente giocherà tonale al centrocampo perché è squalificato contro lo Spezia quindi sarà lui un po' il perno del centrocampo contro il Genoa di Andriy Shevchenko ricordiamolo l'ex bomber rosso nero è a rischio esonero e quindi si gioca tutte le sue carte contro il Milan anche se poi dopo c'è il turno di campionato contro la Fiorentina io penso che per lui sia molto più importante vincere in campionato contro la squadra viola che in Coppa Italia però insomma arriva a San Siro nel suo San Siro con tante problematiche un milano che quindi in attacco dovrebbe cambiare qualcosa da quello che abbiamo capito dalle prime prove tattiche non c'è Ibra perché è squalificato dovrebbe esserci esserci Giroud mentre Rebic potrebbe giocare da esterno sinistro per fargli prendere sempre più confidenza con il campo sempre più minutaggio è entrato nel secondo tempo contro il Venezia secondo me è entrato anche bene contro il Venezia è ovvio che dopo due mesi non c'è ancora il passo del vero Rebic quello che tutti conosciamo però grossi segnali di miglioramento attenzione anche alla possibilità di Daniel Maldini oltre a Salem e Kers quindi un po' di cambi in avanti giustamente un po' di turnover in avanti in Coppa Italia contro il Genova il resto della formazione la scopriremo sicuramente domani dove mister Pioli non parlerà in conferenza stampa ci sarà sì un'intervista ai microfoni di Milan TV e di Mediaset perché detiene i diritti della Coppa Italia ma non ci sarà la conferenza del tecnico rosso nero Maldini e Massara erano presenti oggi al centro sportivo di Milanello per osservare l'allenamento subito dopo sono si sono recati a casa Milan per continuare la ricerca del difensore c'è da dire che nell'ultimo negli ultimi giorni sono arrivate delle importanti offerte anche per Gabbia lo abbiamo già ribadito più volte Gabbia è molto vicino alla Sampdoria ma prima che possa passare in blucerchiato il Milan deve prendere il difensore centrale perché numericamente la difesa del Milan con l'esclusione di Kier presenta solamente quattro giocatori Tomori, Romagnoli, Calullo e Gabbia se anche il Milan vende Gabbia prima di acquistare un nuovo difensore va in difficoltà numerica quindi l'obiettivo del Milan è comprare prima il difensore poi dopo Gabbia può partire in prestito vedremo se la Samp aspetterà Gabbia o si muoverà sul mercato per prendere altri difensori perché hanno comunque un'urgenza no i blucerchiati altrimenti se insomma aspettano Gabbia bisogna prima attendere l'arrivo di un altro centrale al Milan l'idea del Milan in queste gli ultimi 20 giorni di mercato perché praticamente oggi è il giorno 11 il mercato chiude il 31 di gennaio in questi ultimi 20 giorni il Milan andrà secondo me a caccia di un prestito era un po' l'idea che avevamo annunciato a dicembre cioè quella di prendere un giocatore in prestito da qui a fine stagione senza spendere grosse cifre però poi nel corso del mese di gennaio è comparsa anche l'ipotesi di fare un grosso investimento lo aveva detto stesso Paolo Maldini che stavano scegliendo la strategia al momento sembra che la strategia più percorribile sia quella del prestito magari con diritto di riscatto di un giocatore che è un esubero magari di una big e testarlo in questi mesi da qui a giugno se da qui a giugno questo giocatore x che verrà acquistato si dimostrerà capace e affidabile per indossare la maglia del Milan potrebbe anche essere poi riscattato a fine stagione ma non ci aspettiamo quindi a gennaio il grosso colpo alla botman purtroppo arrivano sempre più smentite per quanto riguarda botman non solo da Lille che inizialmente ha sempre alzato un muro per la cessione dell'olandese ma anche da casa Milan e da parte dell'entourage del giocatore abbiamo sempre detto che era difficile a causa del dei 30 milioni che chiede Lille anche più di 30 milioni il Milan ci ha provato ci sta forse ancora provando però si è reso conto che spendere 30 milioni a gennaio con tutte le difficoltà di questo momento storico non è semplice ecco quindi evidentemente si andrà su altri obiettivi su altri giocatori in prestito ripeto credo che sia la soluzione più semplice e stanno proponendo tanti giocatori in questo momento al Milan è stato proposto lo ribadiamo perché abbiamo certezze di Zazie del Monaco ma il Monaco chiede 20 milioni quindi il Milan ha detto no Sar del Chelsea a che del Manchester City ma anche lì costa troppo vedremo se nelle prossime ore usciranno altri nomi sicuramente sono sicuro che usciranno altri nomi perché vedo proprio concretamente quanti giocatori vengono proposti al Milan in queste ore quindi probabilmente non è nemmeno giusto linkarli tutti perché molte volte si tratta anche di una semplice chiacchierata con la dirigenza del Milan e non si approfondisce nemmeno quella pista o quel nome quando il nome di un difensore diventerà caldo io credo che poi uscirà anche col tempo mediaticamente e si comincerà poi a lavorare sempre di più su quella su quel nome lì diciamo che ancora una fase di valutazione anche se molti giocatori sono stati depennati dalla lista di Maldini e Massara ma ben presto arriveremo al nome che penso sceglieranno a breve in dirigenza in via Aldo Rossi quindi c'è solo da aspettare qualche giorno e poi insomma la dirigenza del Milan si fionderà su questo obiettivo X che dovrà essere il difensore centrale che difenderà insieme a Tomori, Romagnoli e Calulu vediamo Gabbia cosa farà i pali e la difesa del Milan da qui alla fine del campionato